Presidente, allora il Carnevale 2019 l'abbiamo archiviato ma la carnevalesca lavora sempre. Oggi sono qui per annunciarvi che abbiamo messo in palio per tutti quelli che finiranno l'album entro fine anno, entro il 30 di dicembre, un palco per la prima giornata del Carnevale 2020. Cioè tutti quelli che finiranno l'album dovranno venire in carnevalesca, noi attesteremo che l'album è finito e daremo una ricevuta ovviamente e tutti quelli che l'hanno finito parteciperanno all'estrazione di un palco per la prima giornata di Carnevale del 2020. E niente, è in qualche modo un ringraziamento a questo fervore, a questa gioia che c'è nel raccogliere la storia del Carnevale in questo album che ha avuto tanto successo.